In studio con me c'è il senatore Ettore Liccheri del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio, bentrovato senatore. Grazie e bentrovati anche i telespettatori. Collegato con noi c'è Giuliano Pisapia del Partito Democratico, candidato al voto del 26 maggio. Buon pomeriggio e bentrovato onoreone. Buon pomeriggio a tutti. Allora, senatore, qualche prima riflessione insieme. Poi tra poco ci raggiunge anche il nostro Massimo Leoni per questa riflessione e analisi politica. Ripartiamo proprio dagli ultimi elementi, dagli ultimi, diciamo, botta e risposta tra i due vicepremier. Ricordiamo tutti, sono stati in grande sintonia negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Le tensioni si sono fatte più acute. Queste ultime battute si sono consumate a suon di spread, di deficit, insomma, sui numeri e sui conti. Anche se Tria, proprio poco fa, il ministro dell'economia ovviamente, da Bruxelles, diciamo, ha fatto quadrato intorno alla posizione del Movimento 5 Stelle, ovvero quel parametro 3% stabilito nei trattati di Maastricht, è stabilito anche nel DEF e da lì non ci si discosta. Certo, sarà difficile far quadrare tutti i conti, no? All'aumento dell'IVA, sia a tutte le politiche volute, però diciamo che questo dovrebbe essere un caposaldo. Sì, non è la posizione di Tria, è la posizione che il governo ha sempre assunto nella gestione della politica economica e quindi voglio rassicurare tutti, noi siamo abbondantemente sotto il 3%, la previsione del DEF in questo momento è al 2,4%, stiamo seguendo un percorso virtuoso e vogliamo assolutamente rispettare quelli che sono i parametri europei. Quello che noi contestiamo è una visione un po' garibaldina, perdonatemi questo termine, della gestione delle risorse pubbliche. Il debito pubblico in questo momento è sotto controllo, addirittura Banca d'Italia ieri ci ha detto che è diminuito di 4 miliardi. Il tema è un altro, il tema non è se sforare o non sforare il 3%, il tema è un Paese membro che decide di investire, quindi di applicare una politica espansiva, che decide di investire sulla scuola, sulla sanità, sull'istituzione, sui collegamenti ferroviari, autostradali, sui porti. È un Paese che sta facendo debito, che sta facendo deficit o è un Paese che sta creando ricchezza? Nel nostro programma elettorale europeo abbiamo proprio questa linea di demarcazione, questi investimenti di base devono essere scomputati dai vincoli di bilancio europeo, perché se cresce un Paese membro, cresce l'Europa, il fiscal compact va bene, purché non venga applicato in maniera sordida, in maniera cieca, in maniera rigida. Il fiscal compact, se applicato in maniera eccessivamente restrittiva, finisce per soffocare le economie più deboli e incredibilmente per rafforzare le economie più forti. Allora, però, se da questo caposaldo si parte e non si prescinde, perché non è la posizione di tria del Movimento, come lei giustamente sottolineava, ma del Governo, perché così è stata anche redatta nel DEF, insomma, da giugno in poi, quando si tratterà di stilare la nuova manovra, ci sarà da che preoccuparsi, perché comunque alcuni numeri ancora non tornano. L'IVA non può aumentare di un centesimo, dice Salvini. Conte diceva ieri, non è che sia una cosa così scontata, per non farla aumentare, sappiamo che servono 23 miliardi di euro, sappiamo che le misure economiche volute dai due azionisti di maggioranza hanno un costo, ovviamente. Partiamo dai dati che ha certificato Istat in questi giorni, e parlo proprio di pochi giorni fa. In questo momento l'Italia è prima nella produzione industriale in Europa. In questo momento l'Italia ha diminuito i propri disoccupati di 90 mila unità e la Germania di 13 mila. In questo momento le esportazioni italiane viaggiano al più 2% e quelle tedesche viaggiano allo 0,5%. Ora, questi sono dati che chiaramente non dicono che sta andando tutto bene, perché il ciclo di contrazione economica sta attraversando tutta l'Eurozona. Però ci dice che stiamo andando nella direzione giusta. E attenzione, ancora non sono arrivati gli effetti moltiplicativi del reddito di cittadinanza, del decreto crescita, del decreto sblocca cantieri, dei 2 miliardi che abbiamo messo per le start-up innovative che partiranno adesso dal mese di gennaio, che daranno un ulteriore impulso all'economia. Stiamo lavorando, abbiamo fatto molto bene, dobbiamo continuare a lavorare, questo sì. Guardi, onorevole Pisapia, reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100, decreto dignità per stabilizzare i contratti dei lavoratori, taglio dei vitalizi anche ai consiglieri regionali, taglio degli stipendi. Ieri abbiamo votato il voto di stadio politico mafioso. Questi sono risultati che abbiamo conseguito insieme fino a ieri. e mi dispiace che ieri il PD e Forza Italia si siano trovati nuovamente d'accordo per non votare il reatto di voto di scambio politico mafioso che impedisce ai politici di barattare i voti con delle utilità. Questo mi dice. Quindi in politica contano i fatti. E appunto, avete votato. La credibilità internazionale sa perché noi ce la stiamo minando. Perché quando apriamo i giornali, continuiamo a vedere i vostri rappresentanti dentro e invischiati dentro le vicende giudiziarie, i rappresentanti di Forza Italia, i rappresentanti di quei partiti tradizionali che non riescono a prendere in mano la questione morale, che non riescono a fare dell'etica e del buon costume un valore della politica italiana. E' lì che noi ci siamo giocati la credibilità internazionale. Ed è per questo che tra i tanti risultati che poc'anzi io li ho elencati ci metto anche lo spazio a corrotti. Perché questo Paese non l'aveva mai affrontato il discorso della corruzione nella politica italiana. Siamo dovuti arrivare noi, nonostante gli italiani da vent'anni, chiedessero una legge sulla corruzione. Però cantono abbiamo sicuramente delle norme oggi. Sì, però mi fate di... Posso assicurare che sulle norme anticorruzione abbiamo fatto tantissime cose. Poi purtroppo oggi arrestano non sicuramente quelle... Ecco, evidentemente però erano norme che non si sono rivelate adeguate alla situazione. Io le do un altro numero, guardi. Siccome ha parlato di contratti precari... Lo sa di... Aspetta, bisapia un istante solo e poi torniamo da lei. Lo sa di quanto sono aumentati i contratti a tempo indeterminato in quest'ultimo anno? Del 300%, meno lavoratori precari, più famiglie che possono progettare un domani. Lo sa che il numero dei giovani in cerca di lavoro in questi mesi è calato ai livelli precrisi del 2011. Io guardi, io porto personalmente una grande stima di quella che è stata la sua parabola politica nella sinistra. Ma io continuo a nutrire forti riserve nei confronti di un partito democratico che dice di essersi rinnovato e che l'altro ieri stipula Zingaretti con Paolo Cirino Pomicino, un'alleanza di sostegno elettorale. Io nutro fortissime riserve su un partito democratico che dice di essersi rinnovato e poi a Gela si allea con Forza Italia per resuscitare un patto del Nazareno in salsa sicula. O di Luigi Zanda, tesoriere del partito democratico, che mentre noi vi chiediamo di votare il salario minimo orario, lui presenta una legge per il salario minimo degli stipendi dei parlamentari a 19 mila euro al mese. Queste sono le contraddizioni. Onorevole, mi perdoni, noi politici, io e lei, siamo due avvocati, ma siamo prestati a questo servizio civile. Noi invece dovremmo recuperare il controllo morale nei nostri partiti, nelle nostre forze politiche. Noi non dobbiamo consentire che sia la magistratura a dividerci tra buoni e cattivi. Dobbiamo essere noi primi a farlo. Il principio del garantismo, che mi vede difensore fino alla fine, ci mancherebbe altro come avvocato, ma il principio garantista della presunzione di innocenza, è un principio costituzionale che va rispettato, ma noi dobbiamo recuperare la possibilità di valutare i fatti di malcostume, quella che è l'etica, che è la morale all'interno della politica. Non possiamo aspettare la decisione dei magistrati, dobbiamo essere noi, io e lei, a farlo all'interno della politica, se non vogliamo che poi intervengano i magistrati. C'è una parte dei 5 Stelle che il PD vorrebbe essere? Non ho sentito, scusate. In queste parole, per esempio? Sul tema della regalità, sul tema del garantismo, ho fatto tutta la mia esperienza di vita, anche l'esperienza istituzionale o di ruolo istituzionale. Quello che voglio dire, il garantismo è proprio quello, ma il garantismo è anche salvaguardare l'autonomia e indipendenza della magistratura, così come, e lo dico e lo ribadisco, l'autonomia e indipendenza della politica. Sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto il senatore, però io personalmente cerco di essere coerente. Voi, avendo votato in una certa maniera, non siete coerenti. Questo che io vi chiedo, cercate di essere coerenti. Non voglio scontrarmi con lei. Però se aveste lasciato stare Cilino Pomicino, io credo che gli italiani si sarebbero rasserenati, no? No, ma io posso dire una cosa. Non c'era bisogno di andare a cercare i voti di un esponente di spicco della corrente andreottiana, plurindagato e pluricondannato. Sono queste le riserve che mi muovono a diffidenza nei confronti di un partito che dice di voler cambiare, ma poi vede che in Commissione Senato, parlo della mia aula, c'è il testo base sul salario minimo orario e io dico benissimo, allora dimostrate che volete davvero occuparvi dei più deboli, degli ultimi, dei disoccupati, dei poveri, della classe lavoratrice, degli abitiani, dei lavoratori. Vocatelo. Prima parlavamo di cose serie, adesso passa alle parole. Io le chiedo una cosa. Lei, senatore, cosa ha votato rispetto all'immunità a Salvini? Era un caso politico, non parli di immunità, perché non era un caso politico. Lì l'interrogativo che era stato posto ai senatori è se nell'azione di governo ci fosse stata un interesse generale dello Stato. E noi abbiamo votato sì, quella era l'espressione di un'azione politica. Ma vedi, lei che ha votato. Piuttosto, diciamolo, che l'indagine penale, che era a valle di quel interessamento del Tribunale dei Ministri, sa come si è concluso? Si è concluso con un decreto di archiviazione. Non spostiamo le cose, non mischiamo il caso politico con i casi giudiziari. La corruzione è una cosa. Il Tribunale dei Ministri che sostiene e che ci chiede se effettivamente abbiamo portato avanti un'azione collegiale di governo è un'altra. Perché se facciamo confusione facciamo il gioco dei corrotti e dei corruttori. No, guardi, lei sta confondendo. Guardi, non è finita come dice lei, non ci ha detto e non ci vuole dire come ha votato. La chiusura dei porti è stato un atto politico, Pisapia. Ma questo non può decidere lei. Ho deciso collegiamente da questo governo che ha risolto il problema degli arrivi. Tanto che adesso ci permettiamo di criticare la bozza del decreto sicurezza bis perché continua a occuparci del problema degli arrivi. Ormai arrivano in 30 e ce li distribuiamo tra i paesi europei e invece non si occupa del problema di coloro che soggiornano nel territorio italiano senza averne titolo. Non c'entra nulla il caso di Ciotti con la questione morale. La questione morale, lei la legge in seconda pagina nei giornali tutte le mattine. Ed è fatta di tangenti, è fatta di arresti, è fatta di inchieste giudiziarie, è fatta di intercettazioni. È lì che noi dobbiamo convergere la nostra attenzione. La divisione dei poteri credo che sia un fondamento della nostra Repubblica, del modo di fare buona politica e non cattiva politica. Non c'è. Voi avete interrotto quello che dovrebbe essere il punto di partenza di qualsiasi deputato, di qualsiasi senatore, di qualsiasi cittadino. La magistratura deve valutare se esiste un reato o no, la politica deve invece cercare di creare le condizioni perché si possa andare avanti limitando per quanto male è possibile la poluzione e i reati, come sta avvenendo dal 2014. Giusto, dobbiamo crescere. Ma il voto di scambio politico mafioso di ieri, io vi avrei voluto insieme a Forza Italia e tutti uniti per votare, per eliminare questa possibilità che un politico possa barattare i suoi voti con le mafie. E invece purtroppo ancora una volta voi e Forza Italia vi siete trovati d'accordo. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Siete voi che avete votato in quella direzione? Siamo veramente 30 secondi, voglio sentire ancora a visapia, volevo anche... È molto brutto, però il contenuto mi sembra che non ci sia molto, tutto il rispetto, un po' proprio pagando. Io pensavo di fare un dibattito e un confronto sereno e costruttivo, dicendo quelle che sono le vostre responsabilità e anche riconoscendo quelle che potrebbero essere le vostre responsabilità. Ad esempio il livello di occupazione, nuova occupazione, si devono non ai vostri provvedimenti che non si potrebbero vedere in così pochi mesi, ma si devono ai provvedimenti del centro-sinistra, le cose positive che ha fatto il centro-sinistra, senza dire che ci sono state anche cose che io non ho condiviso o ci sono state cose che avrei condiviso ma non sono fatto passare avanti. Lo user soldi... L'articolo 18? Lei lo sa meglio di me? Lo sa bene. Che nel Job Act si rilasciava una delega al governo del PD perché facessi il salario minimo radio. Vogliamo dire ai telespettatori che è successo di quella delega? Prende una bufala. Prende una bufala perché l'ho sempre detto che invece l'articolo di... La delega è andata scaduta, purtroppo, per gli italiani. L'abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione, il Movimento 5 Stelle e Lega sono due forze diverse, hanno due storie diverse e si rivolgono a due elettorati diversi e quindi era immaginabile che in campagna elettorale sarebbero affiorate queste differenze. Ciò che dispiace è che dal caso Siri e dai recenti fatti di corruzione Salvini abbia cominciato a mettere in essere dei comportamenti oggettivamente scomposti. Questa irrequietudine, questo nervosismo da parte di Salvini ha certamente contribuito e i fatti che state commentando adesso, l'ultima butade sulla gestione delle risorse pubbliche, è il risultato di un uomo che in questo momento oggettivamente è nervoso e a noi dispiace. Però se poi è troppo nervoso, là torna la provocazione di Pisabia che dice però il vostro alleato di governo a questo punto non è più sconfessato. No, secondo me dobbiamo sforzarci, il governo deve sforzare di riportare il tono della discussione a dei livelli accettabili, fermo restando che comunque sul tema della legalità non si intrasige, non si torna indietro. Salvini deve capire che siamo davanti ad una emergenza nazionale perché qui ogni giorno apri il giornale e ti arrestano politici da una parte e politici dall'altra. Quindi quello stesso coraggio che questo governo ha mostrato affrontando i temi sociali, quelli che la sinistra aveva completamente ignorato e dimenticato, ecco con lo stesso coraggio questo governo che è il governo del cambiamento deve affrontare la questione morale. Senta Licari, il governo di Salvini, una parte di Salvini vuole soprattutto affrontare invece il tema della sicurezza. Il decreto sicurezza bis è in agenda per il Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo alle 15. Io ho qua il provvedimento, però in grafica abbiamo quelli che sono un po' i capisaldi, gli elementi di novità principali che vanno dai fondi per i rimpatri di 2 milioni di euro, così leggiamo nella bozza ovviamente, a quella famosa multa per le navi che soccorrono i migranti che può andare dai 20 ai 50 mila euro, eccola qua, la sanzione per le navi oppure la revoca o la sospensione della licenza. E poi li continuiamo a vedere in regia. Volevo un primo commento del senatore Licari e poi appunto di Baldelli perché anche su questo c'è stata la polemica. Si fa già sulla calendarizzazione lunedì sì, notto, Nineli aveva detto lo facciamo dopo il voto, quando siamo tutti più sereni e quando sono state affrontate altre emergenze, altre priorità. Invece Salvini ha sottolineato che lunedì tutto questo sarà in Consiglio dei Ministri. Se ascoltiamo la gente in questi giorni, la gente fa soprattutto una domanda e ci dice che cosa facciamo di tutti gli stranieri irregolari che soggiornano in Italia in questa condizione di limbo. Perché vedete, questo sul balletto dei numeri non cado. 90 mila, 100 mila, 500 mila. Lo sai il Viminale quali sono i numeri reali. Un giorno magari li sapremo anche noi. Però si dividono in due parti. Quindi da un lato ci sono quelli che effettivamente hanno lo status di rifugiato e hanno diritto alla protezione internazionale. Dall'altro però ci sono quelli che si stanno ammassando e che circolano, che vagano pericolosamente nelle periferie e che non hanno un titolo per stare in Italia. E la risposta che proviene dalle nostre periferie, dalle nostre strade è che dobbiamo risolvere questo fenomeno, che è il fenomeno dei rimpatri. Qui dobbiamo mettere soldi per rafforzare gli accordi di cooperazione internazionale e fare in modo che queste persone lasciano il territorio italiano il più stretta possibile. Ma condividete quella multa, quella sanzione per le navi che soccorrono? Io francamente non ho visto la relazione accompagnatoria al testo, quindi non so quali possono essere le motivazioni. Bisogna vedere se questa norma si può coordinare con il resto della normativa. è ancora una bozza sulla quale io non credo di potermi esprimere. Lo dobbiamo vedere meglio. Però a proposito dell'enorme questione dei rimpatri, quella lì è una questione che dipende da vari pezzi dell'alta amministrazione, una volta si chiama così, dello Stato. Quindi ha un po' ragione anche Salvini a invocare l'aiuto fattivo, comunque una moral suasion presso tutti i soggetti coinvolti in questa operazione, che è tutt'altro che facile, da parte di Palazzo Chigi, da parte del Ministro degli Esteri. Lo faccio, lo faccio. Luigi Di Maio è da settimane che sta chiedendo un vertice di maggioranza per stabilire quale flat tax fare, per vedere se è possibile introdurre subito una legge sul conflitto di interessi, per la legge di sostegno alle famiglie che fanno figli. È da settimane che sta chiedendo un vertice di maggioranza. E dall'altra parte non c'è risposta. E dall'altra parte non c'è risposta. Lo faccia. Se troverà l'appoggio di tutto il governo. Tra l'altro con un conflitto di interessi enorme. Perché il conflitto di interessi che cos'è? Una SRL a scopo di lucro presieduta da un tizio che è presidente a vita dell'Associazione Rousseau, che controlla una piattaforma che secondo il garante per la privacy è manipolabile, dalla quale dipendono decisioni che spostano miliardi di euro di tutti noi. Ma perché è candidato? O è politico? Il conflitto di interessi sai che scatta quando una persona è candidata a candidabile oppure un politico. È conflitto di interessi. Dov'è il conflitto di interessi? È conflitto di interessi perché non è candidato e non è candidabile. Ma che comanda fuori? Comanda fuori lo dici tu. Lui è uno che ha messo la piattaforma a nostra disposizione e noi la utilizziamo per poter sentire la voce dei cittadini e la voce dei cittadini ci dicono che in questo momento... La voce dei cittadini la senti quando si sa le elezioni, no? Sì, sì, non è vero. Due dei quattro soci della piattaforma a nostra disposizione sono divenuti.